Un obiettivo per un paper, quindi 3, 2, 1, go! Ehi, ehi! Ehi, ehi! Non cattavo la maglietta! Prende! Prende! Mi notare un biglietto per Vincenzo, che ha portato una cosa in un pochiella fruttata. Doce! A sua mamma, che se lo sarà portata a casa! Io prendo questo! Un sacchetto, io prendo questo! Un sacchetto! Ok! Questo? Ok! Ok! Tieni! Ok! 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 Un salto! 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 Ok! Un salto! Un salto! Un salto! Un salto! Un salto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.